E' arrivato il momento di svappare, svappo me! La passione principale, poi ho fatto politica per cercare di dare un contributo, però penso che riesco ad esprimermi meglio con le mie opere. Comunque il tema è abbastanza complesso, ma sempre rivolto all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente. Crollo divino da neoplasia universale. Beh, come vedete, la scena principale è questa creatura che, diciamo, nasce dalle ceneri, dagli incendi, che ultimamente sono frequenti nella nostra valle. Però, come essere, lui si propaga e espandela, perché secondo il mio punto di vista l'essere umano è il male dell'universo, quindi sta contaminando tutto l'universo. Poi ho fatto il crollo divino, rappresentato da un Cristo che cade dall'altare, quasi per dire il fallimento di Dio, perché ha creato, insomma, una creatura che sta distruggendo quella che è il suo habitat. Ho cercato di ricreare l'ambiente, uno spazio universo, quella è una stella ferita, spesso ci sono tutte lacerazioni di una stella. E poi ci sono tutti questi satelliti che ogni opera ha un suo significato, sempre rivolto all'ambiente. Lacerazioni, senza ritorno, vortice senza ritorno, stratificazioni. Ci sono voluto migliaia di anni per creare quello che noi in questo momento stiamo calpestando. E noi in pochi decenni stiamo distruggendo tutto. Spero che il pubblico sia soddisfatto di questa mia mostra e sono contento di poter discutere con loro delle opere, anche avendo una sorta di interpretazione personale, perché poi io parto dal presupposto che l'arte, una volta che l'artista l'ha creata, non appartiene più a lui, appartiene al popolo.